Ancora un banco di prova per la tenuta della maggioranza a Foti, ancora uno scoglio da superare per i suoi consiglieri. In una seduta di consiglio che prevedeva le informative da parte degli assessori, seppur su temi caldi, quali tunnel, ex post, benessere giovani e forum, a tenere banco, politicamente parlando, è stata la proposta da inserire nell'ordine del giorno di una mozione di fiducia da parte del consigliere Gianluca Festa. La schermaglia inizia tra i banchi di maggioranza e opposizione per decidere quando trattare l'argomento. Seduta sospesa a conferenza di capigruppo al termine della quale si è deciso di riunire una nuova conferenza a mercoledì 25 gennaio per calendarizzare la prossima seduta di consiglio comunale entro il 2 febbraio. Il primo punto all'ordine del giorno sarà la mozione di fiducia al sindaco Foti. Finalmente i consiglieri fotiani devono uscire allo scoperto perché sta accadendo una cosa strana. Più ci avviciniamo alla data del voto, più si allontanano alcuni consiglieri da Foti per ricostruirsi una sorta di verginità politica. Anche perché che Foti ormai sia stato un disastro e sarà un disastro per questa città è evidente. Che chi è vicino a Foti evidentemente sarà cancellato dal panorama politico è altrettanto evidente. Però per non farne pagare le conseguenze e le pene agli avellinesi noi siamo nell'avviso che entro il 24 febbraio si debba andare a casa e che si debba votare entro il prossimo giugno. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo detto ai consiglieri chi vuole stare col sindaco e associare per sempre il suo volto a quello di Paolo Foti che voti questa sorta di fiducia. Chi invece come noi è per mandarlo a casa voti contro la fiducia a Foti e speri che lo stesso possa rassegnare le dimissioni il giorno dopo il voto contrario. Sono state le opposizioni a chiedere di discutere stesso in questa seduta la mozione di fiducia. Sono stati i propri consiglieri del PD a non volerlo fare. C'è chi ha paura di mostrare quello che è il suo vero giudizio e magari ha anche paura di andare a casa perché non dimentichiamo che nelle prossime settimane ci sarà la grande abbuffata, teatro, ACS, incarichi, appalti, servizi che devono essere affidati. Noi invece siamo per finirla qui e il prima possibile perché Avelino sta morendo. Noi vorremmo evitare che questo accadesse e responsabilmente cerchiamo di spingere per far finire questa esperienza amministrativa. La seduta è stata l'occasione, così come annunciato dal sindaco Foti, di comunicare le nuove deleghe all'assessore vice sindaco Maria Elena Javerone i fondi europei, le partecipate alla Carbone, Trasparenza e Commercio alla Valentino.